Un sequestro Lampo con moltissimi aspetti ancora da chiarire, quello che ha avuto per protagonisti la notte del 15 ottobre scorso Giuseppe Spinelli, ragioniere di Berlusconi, quello che per intenderci pagava le oggettine e sua moglie. L'arresto dei sei malviventi, tra italiani e tra albanesi, è il punto di partenza di una spy story che vede tra i protagonisti Silvio Berlusconi. Francesco Leoni, classe 61 barese, è considerato dagli investigatori l'inventore dei sequestri Lampo. La sua carriera criminale si era interrotta nel 96 quando era diventato collaboratore di giustizia, un abito che gli stava evidentemente stretto se sotto la minaccia di armi assieme ai suoi complici. Il 15 ottobre scorso alle 22 ha preso in ostaggio Spinelli e la moglie nel loro appartamento di Bresso. I malviventi hanno aspettato che ragioniere rincasasse e quando la moglie ha aperto la porta è stato travolto e spinto dentro. Le due vittime prima sono state trattate con una certa crudezza dagli uomini che erano armati, poi gentilmente. Leoni pretendeva da Silvio Berlusconi il pagamento di 35 milioni di euro in cambio di un dossier composto da documenti e registrazioni video riguardanti i segreti sul lodo Mondadori in grado di ribaltare, a detta dei sequestratori, una sentenza che è costata all'ex premier la somma record di 560 milioni di euro. Il sequestro si è protratto fino al giorno dopo perché il ragioniere ha detto di non poter raggiungere l'ex premier fino all'indomani. Alle 9 del 16 ottobre Spinelli è stato quindi costretto a telefonare a Silvio Berlusconi. Una chiamata di pochi minuti in cui Spinelli ha detto all'ex premier della presenza dei documenti, ha fatto presente la richiesta di 35 milioni di euro e ha riportato un'altra proposta dei sequestratori, un filmato in cui sarebbe stato ripreso Gianfranco Fini a colloquio con i giudici del lodo Mondadori in cui chiedeva aiuto per mettere in difficoltà Berlusconi, un cd da quanto si apprende di cui non c'è traccia e che non è mai stato trovato dagli inquirenti. Prima di andarsene i sequestratori avrebbero fatto fare una seconda chiamata e in questura durante la conferenza stampa si era parlato solo di una telefonata all'ex premier, questa volta al legale dell'ex presidente del Consiglio Nicolo Ghedini. È stato lo stesso avvocato a raccontare i contenuti a margine di un'udienza del processo Rubi. Guardi, avrebbe detto a Spinelli Ghedini riferendosi alla proposta dei rapitori, possiamo anche parlarne, possiamo anche decidere di pagare, però lei deve venire ad Arcore e portare copie dei documenti. Il ragioniere, secondo la ricostruzione dell'avvocato, in quel momento gli ha risposto di non potersi muovere. Se noi non vediamo i documenti, ha detto al legale di Berlusconi, non paghiamo una lira. In realtà, ha sostenuto Ghedini, i sequestratori non avevano in mano nulla e nulla sembrava fosse stato pagato per il riscatto, almeno secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile. Il pubblico ministero che indaga ipotizza invece che lo spostamento di denaro da una cassetta di sicurezza di uno degli arrestati in una banca svizzera possa trattarsi di una parte del riscatto che potrebbe essere stato pagato in un momento successivo al rilascio degli ostaggi, ma non monitorato. In questa vicenda c'è sicuramente da tener conto ancora di un paio di aspetti. Dopo rilascio, il 16 ottobre mattina, Spinelli è stato prelevato dagli uomini della scorta di Berlusconi e portato al sicuro. La denuncia del rapimento è stata fatta solo due giorni dopo, un fatto quantomeno insolito. Il sopralluogo scientifico, le immagini di telecamere, i tabulati delle telefonate hanno poi permesso di individuare sei presunti responsabili. Il capo della banda è stato anche tradito, oltre che da una traccia biologica lasciata in casa del ragioniere, anche da un paio di scarpe rosse con le stringhe nere riprese da una telecamera e poi trovate a casa sua.